Grazie a tutti. Ti senti che uno scorso punto alla disgregazione è stato anche un forte applauso in Piazza Maggiore, a queste parole del Prefetto? È un momento complesso che il nostro Prefetto sta attraversando e credo che il terzo paragone è stato sicuro, quindi non c'è per me di fare. L'aspetto umano da commissario in questa piazza che sta oggi? Straordinario, una festa di popolo straordinaria, una città risposto in merito generoso. Grazie, grazie commissario. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.